Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale Ragazzi parliamo adesso di MotoGP dove ho parlato di Juventus Inter Ragazzi dobbiamo parlare del Gran Premio di Argentina Termas de Riondo, circuito meraviglioso che regala sempre gare imprevedibili E dobbiamo parlare di quello che è successo Un risultato storico, meraviglioso Alecce Spargarò sull'Aprilia Vince la sua prima gara in MotoGP E l'Aprilia quindi vince tra l'altro la sua prima gara Nell'era MotoGP Fantastico veramente Stiamo parlando di un risultato veramente incredibile Una gara che non si doveva forse neanche correre È successo veramente di tutto Ne abbiamo parlato nei video sul canale Una gara veramente folle Da questo punto di vista Un programma che è stato completamente rivoluzionato Per via comunque di ritardi, guassi aerei Il materiale, le moto che non erano arrivate per tutti E Carmelo Espeleta che aveva dichiarato Ragazzi se le moto non arrivano a tutti E non ci sono le stesse condizioni per tutti Non si corre Quindi basta Perché comunque alcuni potevano scendere in pista Altri no Giustamente si è optato per cambiare completamente il programma E come si è cambiato il programma? Ne abbiamo parlato sul canale Nello short Nello specifico Due sessioni di prove libere Un po' più lunghe rispetto al solito Quindi FP1, FP2 In cui appunto erano combinate Tutte le Tutto quello che dovevano fare i piloti In quattro sessioni normali E quindi comunque valeva la regola Della classifica accumulativa Per quanto riguarda i piazzamenti in Q1 e Q2 E quindi ragazzi Veramente grande stress sui piloti Perché non potevano sbagliare una virgola Nella scelta appunto O del setup O della gomma O comunque di qualunque altro tipo di Strategia E infatti abbiamo visto comunque tanti piloti Adottare quasi le stesse strategie Comunque gomme appunto Gomme molto simili Una setup anche abbastanza lineari Proprio perché comunque non c'era il tempo di sperimentare Qualcosa di diverso Tra l'altro quindi Tutto condensati negli appuntamenti del sabato Il sabato non solo ha dovuto Vedere FP1 e FP2 E qualifica per quanto riguarda la MotoGP Ma la stessa cosa Anche per Moto2 e Moto3 Sensazioni è veramente diversissima Ma è anche giusto così Perché comunque C'era un'affluenza di pubblico Clamorosa per questo appuntamento Era giusto correre Anche se con questo programma rivoluzionato Sono contento che non hanno toccato La gala della domenica Perché comunque La domenica puoi sempre andare a stravolgere Quella che è la classifica del sabato Se il sabato Tante situazioni sono comunque legate Dal fatto che Magari tutti sono molto vicini Tanti piloti Anche big Non riescono a trovare immediatamente il setup Invece magari una moto molto versatile Riesce Anche se inferiore nelle presezioni Ad essere più competitiva Fin da subito La gara è sempre la gara E quindi è lì Che comunque Tutti i valori riescono a venire fuori E quindi Parliamo dello specifico Di questo Super Super Weekend Partiamo dall'FP1 17.35 del sabato Menziono anche l'orario Perché ragazzi Veramente è tutto molto Attaccato l'uno con l'altro Finalmente in qualche modo Quindi si parte C'è uno splendido solo Una bellissima pista 19 piloti Nell'FP1 Racchiusi in un secondo Questa è la sintesi Di quello che vi dicevo io Cioè nel senso Tanti setup molto vicini Tante scelte molto vicini Tanti piloti Che non hanno potuto Sperimentare nulla di diverso E quindi Sensazioni molto simili Per tutti In questo modo di CP Comunque Dai valori così Vicini Così racchiusi Era molto prevedibile Tra l'altro La prima posizione La fa Nakagami Con lui che doveva mancare Causa Covid Invece è riuscito Comunque a negativizzarsi Prima del tempo Subito dopo I fratelli Spargarò Una super sorpresa Dietro appunto Alla famiglia Spargarò Marco Bezzecchi Che si proietta Verso un weekend Meraviglioso E ne parleremo Perché Bezzecchi Ha fatto un weekend Strepitoso Prima delle Ducati Fra l'altro L'ottavo tempo Maverick Vignales Fa ben sperare L'aprile Quindi sembra essere Tornato finalmente Anche Top Gun Maverick Vignales Siamo solo all'inizio Si corre in condizioni Molto particolari E quindi Tutto Potrebbe cambiare E vediamo appunto Se cambia tutto Nelle FP2 Perché l'aprile Intanto continua A volare Clamorosa Doppia Prima posizione Per entrambi I piloti Della casa di Noale E Spargarò primo Vignales secondo Terzo Jack Miller Quarto Quarta raro Quinto Brad Winter Sesto e settimo Alle due Suzuki Jorge Martini Zarko Ottavo e nono Con le Prama Che decimo Marini E questi sono coloro Che passeranno Nel Q2 Va molto molto bene Luca Marini Che riesce all'ultimo giro All'ultimo tentativo Ad entrare nel Q2 E far fuori Comunque tanta gente Di molto Molto importante Perché va fuori Oliveira Bagnaia Nakagami Stesso Morbidelli Anche lo stesso Bassianini Che fino a quel momento È il primo Della classifica Mondiale Quindi sicuramente Ha fatto fuori Tanta gente Illustra Ripeto Bassianini Morbidelli Michele Oliveira Bagnaia E quindi Veramente incredibile La situazione Che per esempio Sta capitando A Pecco Bagnaia Si risolverrà Nella gara Sicuramente Tornerà Alla ribalta Però stiamo parlando Comunque di un Pecco Bagnaia Che per tutto il weekend Almeno nella parte iniziale È in grossissima Difficoltà Paul Spargarò E Nakagami Riescono Ad accedere Nel Q2 Durante le qualifiche Ed è questa La grande sorpresa Del sabato 22-05 Dopo le FP2 Delle 20 Delle 20 In punto Ragazzi Stiamo parlando Di una situazione Incredibile Pecco Bagnaia Non riesce Ad entrare Nel Q2 Paul Spargarò E Nakagami Riescono appunto A far fuori Pecco Sicuramente Una situazione Molto particolare Per il ragazzo Della Ducati Che è in grandissima Confusione Però È quello Un pochettino Che vi dicevo io Tutta la MotoGP È veramente Molto raggruppata In pochissimi secondi E quindi È veramente Diventa una lotta Complicatissima Anche solo Entrare nel Q2 Spesso e volentieri Coloro che si fanno Eliminare Nel Q2 O comunque Nel Q1 Sarebbero stati capaci Comunque Di fare Dei piazzamenti Importanti Nel Q2 Io sono sicuro Che Pecco Bagnaia Se fosse riuscito Ad entrare nel Q1 Avrebbe fatto Sicuramente Una qualifica Più importante E parliamo Di colui Che ha fatto La pole position Alecce Sparcarou Di forza Fra l'altro Prima pole Storica Di aprilia In MotoGP È veramente Una bellezza Incredibile Secondo posto Jorge Martini Che ha fatto Un lavoro Mostruoso Il grande Martinator Quindi veramente Ha fatto un lavoro Incredibile Il più alto Della Prama Che egli serviva Un weekend del genere Dopo due zeri Consecutivi Dopo due cadute Consecutive Davanti a un super Finalmente Fra l'altro Luca Marini Che conquista La sua prima volta In prima fila Luca Marini È sicuramente Un pilota Che gli ha fatto bene Questo passaggio Dall'anno scorso A quest'anno Perché è passato Dalla GP19 Alla GP22 Quindi la stessa Identica moto Di Bagnaia Di Miller Di Martini E di Zercò E stiamo parlando Comunque di un pilota Marini Che ha dimostrato Anche nelle categorie Inferiori Di essere comunque Un manico Importante Di avere comunque Del talento Sicuramente Il fatto di essere Il fratello di Valentino Rossi Un pochettino Lo ha destabilizzato Nel primo anno Della sua carriera Bassianini per esempio Con la stessa moto Lo ha asfaltato Adesso però Luca Marini Si sente veramente In forma E sta provando A dire la sua Nel moto mondiale Vedremo Vedremo Purtroppo Non è che ci riuscirà Più di tanto Nella gara Anzi sarà una Delle delusioni Del weekend Però Quanto meno La pole position La prima fila La riesce Che per lui Comunque la prima fila È come se fosse Una pole position La riesce a centrale Subito dopo Paul e Spargerò Maverick Vignales Migliora qualifica Della sua carriera In aprilia Molto molto bene Finalmente Perché Vignales È un pilota Molto forte Molto talentuoso E quindi ci mancava Nelle posizioni di testa Sesto Fabio Quartararo Che riesce a centrare La seconda fila Fondamentale Rins Sempre davanti A Yuan Mir Quindi molto bene Alex Rins Ma bene Molto bene Comunque anche La Suzuki E poi Zarco E Nakagami Sarà veramente Una gara spettacolare Perché i valori di forza Sono quelli Ma parliamo Poi più che altro Delle emozioni Perché Alex Spargerò Anche solo Per la qualifica Era veramente In estasi Lui ha dichiarato Disputato 200 gran premi In MotoGP Ho vissuto Tutto In maniera Molto intensa Era Abbiamo Abbiamo comunque Intervallato Momenti Di grande gioia Momenti Veramente Difficili E voglio dedicare Tutto questo Alla mia moglie Alla mia famiglia E i miei figli Che non sono usciti Ad essere presenti Per il weekend Ma lui si è visto Ha detto Comunque Aprile È la mia seconda famiglia E quindi Finalmente Possiamo dire La nostra Ed era veramente Commosso In volto Alex Spargerò Veramente Ha fatto una qualifica Meravigliosa Ma meravigliosa Anche Luca Marini Che comunque Ha detto In maniera anche Spavalda Il mio livello È questo E forse anche Qualcosa in più Io quest'anno Finalmente Mi sento Alla grande Posso Fare un passo Avanti Come pilota Lo sto facendo Come persona Rispetto allo scorso anno E mi aspetto Per lottare Mi aspetto Di lottare Per questa posizione Purtroppo Non ci riuscirà Però comunque Ripeto Grande qualifica Anche la sua E tornando un po' Sul discorso Aprilia Possiamo dire Che Dovizioso Magari ha Rifiutato Una moto È un'opportunità Veramente Incredibile È una scelta Scellerata Un rifiuto Magari Clamoroso E questo Sicuramente Sarà argomento Nel corso Dei prossimi giorni Perché sicuramente Dovizioso Potrà Masticare Amaro Veramente Stiamo parlando Di un pilota Che è stato Anche sfortunato Perché comunque Nella sua scelta È ammancato Ammancato Veramente Un'opportunità Incredibile Perché comunque Bisogna anche avere Fortuna In questo tipo Di situazioni Warm up Importante Perché continua A splendere la luce Di Alecce Spagaro Che si conferma Il pilota Più veloce di tutti E diciamolo Chiaramente Lui e l'Aprilia Comunque Hanno avuto Tutto il mondo Italia Che tifava Per loro Sarà sicuramente Una super battaglia Perché Orghe Martino Ha un passo gara Veramente incredibile Stessa cosa Anche Fabio Quartalaro E finalmente Anche Pecco Bagnaia Ha comunque Fatto vedere Di avere un passo gara Importante Occhio Al KTM Con Oliveira E Brinder Perché anche loro Comunque in gara Si trasformano E poi Sempre Attenzioni Al Rins E a Mir Perché le due Suzuki Sono veramente In palla E possono dire Qualcosa Sicuramente Di importante Per la gara Fra l'altro Sono veramente Costanti Nelle performance E quindi Sicuramente In gara Non tradiranno Le attese Ovviamente Dove parleremo Di Moto3 E di Moto2 Perché abbiamo assistito A due gare Mostruose Ma mostruosa E la vittoria Di Alecce Spargaro Che la riesce A portare a casa Prima vittoria Dell'Aprilia In MotoGP La sua prima volta Tra l'altro In MotoGP Tutto molto Bello E storico Quindi veramente Un'impresa Incredibile Per il ragazzo Dell'Aprilia Che ha vissuto Ripeto Momenti Difficilissimi In carriera Uno dei piloti Ripeto Più sottovalutati Della MotoGP Un ragazzo Che veramente Ha del talento E talento è dir poco Veramente un duello Bellissimo Fra l'altro Ha studiato molto bene Il duello finale Con Jorge Martin Tra l'altro Jorge Martin Secondo A otto decimi Solamente Dalla Lecce Spargaro Una grande Grande impresa E poi Sul podio Ci finisce anche Alex Rins Meraviglioso Perché sempre Solo più veloce Del compagno di squadra Quarto Mir Che continua a fare Punti pesanti In ogni situazione E quindi Rins Applausi Finalmente Perché comunque In questa stagione Sta facendo un pochettino Il Mir Sicuramente Rins Ha migliorato La costanza Ha migliorato Comunque La sua capacità Di non cadere E di fare Punti pesanti E quindi Sicuramente Molto molto bene E' una delle note Più positive Del weekend Ma Quinto posto Finalmente Pecco Bagnaia Riesce a dire La sua Con la Ducati Ci è voluto Un po' Per carburare Per guadagnare Delle posizioni Importanti Ma Finalmente C'è riuscito E' stato Veramente importante E io avevo detto Che Bagnaia Se appunto Avesse concluso La gara al podio Sul podio Allora si Che poteva dire La sua Per il mondiale In questo momento E' appunto Al quinto posto Ma può dire Comunque È difficile Che può dire La sua Per il mondiale Però Gli serviva Un risultato Del genere Gli serviva Comunque Di portare A casa Punti Pesanti Sesto Binder Che quando si tratta Di fare Punti Pesanti Lui c'è Sempre Un pilota Veramente Molto Molto Competitivo Settimo Vignales Che nel finale È un pochettino In difficoltà Con le gomme Ma anche lui È sempre Stato In quelle Posizioni Ottavo Quartararo Che sarà Argomento Per l'anticipo Adesso Dei miei Prossimi Video Sul canale Perché Quartararo Onda Comincia a diventare Più di una suggestione Comincia veramente Ad essere Un qualcosa Di concreto E nono Posizione concreta A dir poco Bezzecchi Qual è una gara Meravigliosa Si è messo davanti A Bastianini Decimo E undicesimo Luca Marini Compagno di squadra Bezzecchi Miglior risultato Di un rookie In questa stagione Meraviglioso Ha fatto veramente Un weekend Mostruoso Dodicesimo Nakagami Tredicesimo Olivera Quattordicesimo Miller Che è naufragato Completamente Quindicesimo Alex Marquez Che anche lui Con la sua onda LCR È veramente In grandissima Difficoltà Sedicesimo Fernandez Dicesettesimo Gardner Stanno un po' Deludendo I due ragazzi Della Tech3 Vedremo Se si riprenderanno Nel corso Della stagione Diciottesimo Binder Che dopo l'ultima gara Dove aveva fatto Il fenomeno Sul bagnato Torna un pochettino Alla realtà Diciannovesimo Bradel Che è comunque Più di quello Non potevamo Appunto Chiedere al Collaudatore Della Honda Ventesimo Dovizioso Che comunque Si è classificato Anche se dopo Tre giri Rispetto agli altri Ma Dovizioso Ha avuto un problema Col motore A un certo punto La moto si è spenta Completamente Quindi veramente Anche sfortunato Out Aleccio Veramente un'impresa 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 incredibile Del ragazzo Ha fatto un sorpasso Nell'ultimo giro Su Dennis Foggia Incredibile Secondo Foggia Sempre Un appiazzamento Comunque fondamentale Per il ragazzo Terzo Sassaki Che ha fatto una gara Incredibile Perché aveva Un long lap penalty Ed è comunque Riuscito a risalire In terza posizione Per quanto riguarda Le ottiche I giochi mondiale Grande importanza Ha il sorpasso Di Garzia Perché Garzia Sorpassa anche Nel mondiale Dennis Foggia 58 Il più oltre La Gas Gas Il più oltre L'Leopard Dennis Foggia L'italiano A 54 Guevara Terzo A 28 Sembra appunto Già fuori dai giochi Perché sembra già Una lotta a 2 Chi appunto Ha dimestichezza Con la Moto 2 Con la Moto 3 Comunque vede Che quando ci sono Due ragazzi in lotta Lo si vede fin da subito E Garzia E Dennis Foggia Sembrano già proiettati A giocarsi il mondiale Solo loro due Da qua Fino al termine Della stagione Moto 2 Ancora una super Strepitosa Vittoria di Celestino Vietti Con la BR46 Seconda posizione Ciantra Che anche lui Fa un'impresa Incredibile Terzo Ogura Che nel finale Beffa Canet Quindi veramente Anche qui Un italiano Che comunque Si sta giocando Il mondiale E si sta giocando Il mondiale A dir poco Perché Vietti È primo Con 70 punti Canet secondo A 49 Terzo Ciantra Veda Rivelazione Di questo mondiale Moto 2 A 45 Ragazzi Questa era la mia analisi Post race Del gran premio Di Termas de Riondo In Argentina Adesso però Dico a voi Ditermi la vostra Nei commenti Mettere like Se questo video È piaciuto Iscrivetevi a questo canale Se non potete perdere Nessun aggiornamento Sui miei video futuri Ragazzi Vi saluto Ciao a tutti Da Domenica Versa Ciao a tutti Ragazzi